Messa mattutina per Papa Francesco a Santa Marta. Durante l'omelia si è soffermato sull'idea di un luogo, quello del confessionale, che dice non è una tintoria. Ci vuole, aggiunge, la vergogna dei propri peccati. Sentiamo il suo messaggio nel servizio. Il perdono è un mistero difficile da capire. Il primo passo è la vergogna dei propri peccati, una grazia che non possiamo ottenere da soli e che non fa del confessionale una tintoria. Lo ha detto il Papa nell'omelia della messa celebrata oggi a Santa Marta. Il perdono ricevuto da Dio, la meraviglia che ha fatto nel tuo cuore, ha spiegato Francesco, deve poter entrare nella coscienza. Se tu non hai coscienza di essere perdonato, mai potrai perdonare, ha ammonito il Papa. Il servo, protagonista del Vangelo, sottolinea ancora il Papa alla sensazione di essersela cavata, di essere stato furbo, invece non ha capito la generosità del padrone. E quante volte, afferma Francesco, uscendo dal confessionale, sentiamo questo, sentiamo che ce la siamo cavata. Questo non è ricevere il perdono, rimarca, ma è l'ipocrisia di rubare un perdono, un perdono finto. Chiediamo oggi al Signore la grazia di capire questo 70 volte 7. Chiediamo la grazia della vergogna davanti a Dio. È una grande grazia vergognarsi dei propri peccati e così ricevere il perdono e la grazia della generosità di darlo agli altri. Perché se il Signore mi ha perdonato tanto, chi sono io per non perdonare?